Ragazzi, sta andando fuori di testa. Dottor Meniere, c'è una persona del pubblico che l'avevo agitata. Potete portare un microfono, per favore? Buonasera a tutti. Vuole fare una domanda? No, io voglio dare delle risposte, caro Kojak. Voto di pancia o voto di testa? Riflessivo, diciamo. Ma, sa, è più facile la visibilità di chi è arrabbiato. Ritorti da dove l'hanno mandato! Serbo! Bravo! Ma cosa significa essere populisti? Se populisti significa essere accanto alle persone, essere accanto al popolo. L'etimologia del termine, voglio dire, è quella fondamentalmente. Io sono fieramente populista. Significa rendersi conto che la politica è un po' debole di questi tempi, ma noi dobbiamo renderla migliore. Ma non esistono più i moderati in questo paese, non esiste più il ceto medio che si è impoverito in maniera clamorosa. Urlare non vuol dire risolvere i problemi. Grazie. Buoni! 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 Grazie pancia del paese! Così possiamo salvare questo paese. Questa è la verità. Grazie ragazzi, le autografi le facciamo noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!